Lo hanno visto in pomeriggio vicino all'area picnic del Voltigno, la piana a 1.400 metri sul Gran Sasso, un magnifico orso marsicano in ottima forma che scorazzava con passo leggero, uno sconfinamento pieno di promesse dalla Marsica e o dalla Maiella. Non si sa, ma questa straordinaria novità è il timpro notarile che certifica la qualità dell'ambiente della montagna pescarese che lancia la sua offensiva alla stagione turistica imminente. Per noi è un evento formidabile, una ciligina sulla torta che la natura ci regala, adesso che stiamo mettendo a regime la nostra potenzialità di accogliere in qualità. E' l'entusiasto commento del sindaco di Villa Ciliero Domenico Vespa. Secondo noi, prosegue Vespa, questo orso è qui da almeno un anno e mezzo, ma ora che lo abbiamo visto e certificato possiamo proprio dire che il nostro Gran Sasso è in grandissima forma.